Etero Misericordiae Etero Misericordiae Etero Misericordiae Nella strada che Gesù ci indica per andare avanti, il servizio è la regola. Il più grande è quello che più serve, quello che più è al servizio degli altri, non quello che si vanta, che cerca il potere, i soldi, la vanità, l'orgoglio. No, questi non sono i grandi. E questo che è accaduto qui con gli Apostoli, anche con la mamma di Giovanni Giacomo, è una storia che accade ogni giorno nella Chiesa, in ogni comunità. Ma da noi, chi è il più grande? Chi comanda le ambizioni? In ogni comunità, in ogni parrocchia, in ogni istituzione. Sempre questa voglia di arrampicarsi, di avere il potere, di avere il potere. Il potere. Il potere. Il potere. Il potere. Oltre. Il potere. Il potere.